Presso Palazzo Dogana Resort di Agropoli si è tenuta la conferenza del settore equidì, il cavallo macchina e il cavallo animale, organizzata da Love Salerno. Testimonial della serata a Flavia Vento, che si batte per i diritti degli animali. Flavia Vento ha spiegato chi è veramente il cavallo e come l'uomo lo trasforma. Lavoro, competizioni, sport, scommesse e giri turistici, queste le occupazioni full time degli amici cavalli, meravigliosi animali estremamente sensibili ed intelligenti, che in natura amano vivere in branco e giocare liberamente, spesso coinvolti in scommesse clandestine, sono sottoposti a fatiche insostenibili e dopati per ottenere migliori performance di gara. La loro è una schiavitù silenziosa che in molti casi, anche girando le leggi, termina al macello. Infine ha dichiarato Flavia Vento, da anni ci battiamo per restituire la libertà a questi timidi animali, che meritano una vita senza redini e senza briglie. Presente alla conferenza anche Nadia Zurlo, che ha denunciato la poca conoscenza dello sfruttamento dei cavalli nel settore ippica ed equitazione. Nessuno sa come patiscono i cavalli dentro le scuderie e come l'uomo li trasforma per diletto e denaro. In serata è stata organizzata anche una cena di beneficenza, i cui proventi sono stati destinati ai cavalli attualmente ospiti del centro di recupero della LAV Serenity Horse, salvati dallo sfruttamento dalle corse clandestine e dal doping. Grazie a tutti.